Ciao belle e bentornati su Buono Channel Carta Canta E oggi saluto le persone che hanno partecipato al contest per questo video qui Video 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 Ok Quindi in fondo, in fondo al video però non saltate Cioè continuate a guardare il video e trovate tutti i saluti per voi Sigla Di cosa parliamo oggi? Bentornati! Oggi parliamo di oggetti strani parte seconda Qui potete trovare la prima parte Mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va e seguiteci sui social Pronti? Partenza? Via! Quanto Quanto è inquietante Cioè io ho tutti i giorni questa roba qua Ma quanto è inquietante Sapete che non ho idea delle sue origini Però ha questo storrisino, questo ghigno malefico in realtà E poi fa questo rumore Cioè è una delle cose più inquietanti presenti in camera mia Quindi entra di diritto in top 5 Mi gioco subito, me lo gioco subito Questo Un manico di ombrello Ok? Allora voi potreste dire che questo è un manico che io ho appena rotto Ok? Solo per fare il video Invece no Perché è anche inciso Provo a farvi vedere Vi dico solo Che arriva da Amsterdam Ok? Quindi nei commenti scrivetemi le origini E il perché Questo porta ombrelli Cioè questo manico di ombrelli È presente in camera mia Ho la versione tipo Non lo so moderna Ok? Del gioco della bottiglia Cioè ho questo robino qua Perché chi gira? Cioè adesso non so se voi vedete Ma lui continua a girare E ha scelto voi Quindi tu devi Allora vediamo Chi deve mettere like Al canale dell'altro Vediamo eh Ah! Tu devi mettere No Io devo mettere like a voi E va bene ragazzi Iscrivetemi Le vostre pagine di Instagram Oppure se avete un canale Vengo lì a mettervi like Non riesco Questa è una chicca Questa è una chicca eh Questa non ce l'ha nessuno Direttamente da Springfield Quando io e il mio amico Il commissario Winchester Ci siamo fatti una bevuta assieme Personalmente sono molto Molto orgoglioso Di avere la birra Duff Ufficiale Originale Davvero Targata Simpson Non è vero Non è Targata Simpson Raga Perché effettivamente La Duff è una birra Che è venduta in America Questa cosa Non mi assumo la responsabilità Di quello che ho detto Penso sia vero Ma non mi assumo la responsabilità Ma c'è Dunque la qualcosa Che schifo Raga Dite che sto esagerando Col gioco d'azzardo Che c'è Allora Quando qualcuno di voi Mi mostrerà Qualcosa del genere Allora poi ne riparliamo Cioè Sono Delle carte giganti Ora non chiedetemi perché io Abbia in caso Delle carte giganti Però Possono Sempre essere utili No No Chissà Infine raga Ci tenevo a fare un annuncio Siete qua Raga Ah no Siete qua Ci tenevo a fare un annuncio Tu Chiunque tu sia Ad aver smarrito Questi occhiali Circa un anno fa Bene Sei pregato di richiedermi Tanto non mi servono Perché continuo a non capire Comunque davvero Ragazzi Iscrivete Siete qua Sì Insomma ho degli occhiali che non sono miei E non ho idea Di chi sia il proprietario Bene ma siamo giunti al momento Che tutti aspettavate Quindi i saluti I vincitori del contest Le pecore presenti nel video Questo qui Erano esattamente 14 E andiamo con i saluti Allora saluto Dome Ciao Dome Sempre qui Dome Mi raccomando Ci vediamo alla Repax Saluto Mauro Mauro Vedi che ti sto salutando Finalmente Mauro è un ragazzo in gamba So che ci darà un sacco di soddisfazione Grande Mauro Mi raccomando Mauro fai il bravo Mauro Stefano Grande Stefano Come stai cazzo Tutto bene? Eh? Bravo mi raccomando Anzi no raga Non faccio cognomi Credo non sia il caso Comunque Ciao Ste Saluto anche Lollo Anche lui un ragazzo super in gamba Mi raccomando Fate i bravi Pila Tutto a posto? Mi levo il cappello Va To To Ricchi Ciao Riccardo Tu sei uno dei nostri fan più attivi Ci segui ovunque TikTok Instagram YouTube Quindi un sincero grazie Ricchi Grazie Continua a seguirci Mi raccomando Ciao Ale Anche tu sei una super fan Ci segui Ci commenti sempre Quindi grazie mille Ale Sei la prima fan ad aver avuto Il logo di fan attiva Su Facebook Quindi grazie mille E infine salutiamo Claudia Ciao Cipolla Ehi Bene ragazzi Il video è finito Io vi invito a lasciare un like A condividere con i vostri amici Noi ci vediamo sempre qui su Buono Channel Per altre top Alte curiosità E altre un sacco di robe Ciao belli